Carcere per Nicola Opazzo uccise Giovanni Cellammare, il Tribunale ha riconosciuto Nicola Cenatiempo colpevole di omicidio preterintenzionale, condannandolo a 4 anni e 10 mesi di reclusione. La Polizia lo ha tradotto a poggio reale. Spaccio di droga arrestato 25enne Procidano, i carabinieri lo hanno colto in flagranza di reato nella notte durante i controlli del territorio, trasferito in carcere. Ischia, lavori quasi ultimati alla scuola elementare Marconi, camere d'aria, impermeabilizzazione del tetto, infisse e tinteggiatura sono solo alcune delle opere iniziate a luglio dello scorso anno. Enzo Ferrandino, a settembre i bambini troveranno la scuola pronta ad accoglierli. Parva Domus di Lacquameno, ammorbata dai rifiuti, gli abitanti della 167 di Lacquameno da anni lottano per la dislocazione dell'area ecologica, non possiamo più vivere così ed estate è anche peggio. Ritornano i go-kart sull'isola d'Ischia dopo 12 anni, sabato 18 giugno l'evento e tempo di kart. 15 piloti sfrecceranno in monoposto per aggiudicarsi la vittoria sulla pista allestita al palazzetto dello sport di Fondoposso. Ben ritrovati al consueto appuntamento con informazioni di Teleischia. Apriamo quindi, come sempre, con la pagina della cronaca. Gli uomini del commissariato di Ischia, diretti dal vicequestore dottor Marnelli, hanno eseguito l'ordine di carcerazione per Nicola Cenatiempo. L'uomo che lo scorso anno, nel corso di una lite, aggredì e presi a pugni Giovanni Celammare, che in seguito morì per le conseguenze dei colpi subiti. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha infatti riconosciuto colpevole Nicola Cenatiempo, detto Nicola Opazzo, del reato di omicidio preterintenzionale e ha stabilito che dovrà espiare la pena con 4 anni e 10 mesi di reclusione di anni presso la casa circondariale Poggio Reale di Napoli. I fatti si svolsero l'8 giugno 2015 nei pressi del Nick Bar di Fiaiano. Nicola Cenatiempo, classe 59, colpì Giovanni Celammare con un violento pugno al capo. Celammare venne trasportato a Napoli presso il reparto di rianimazione, ma non riprese mai conoscenza e qualche tempo dopo morì. L'episodio scosse molto l'opinione pubblica, venendo considerato un po' un segnale della deriva violenta innescatasi sull'isola di Ischia. Nicola Cenatiempo venne sottoposto agli arresti domiciliari, arresti che oggi si sono tramutati nel carcere. Nel corso della notte i carabinieri della stazione di Procida, gli ordini del capitano Andrea Centrella, hanno tratto in arresto il 25enne procidano MA per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari lo hanno fermato nel corso dei controlli sul territorio, cogliendolo in flagranza di reato. Successivamente è stata effettuata la perquisizione domiciliare presso l'abitazione del giovane. I carabinieri hanno trovato 10 stec di ascisce del peso complessivo di 50 grammi, 1020 euro in contanti e un bilancino di precisione. La droga e i soldi sono stati posti sotto sequestro. Il 25enne, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito presso il carcere di Poggio Reale come disposto dalla autorità giudiziaria. Sono in corso di ultimazione i lavori ai locali del Plesso Marconi a Dischia, lo annuncia il vice sindaco Enzo Ferrandino. I bambini potranno ritornare al Marconi dal prossimo anno scolastico dopo il restyling alle aule e alla facciata esterna del Plesso. Sentiamo. Lavori al Plesso scolastico Marconi. Vice sindaco Ferrandino, a che punto siamo? A Medeo siamo in addirittura di arrivo. L'altra mattina ho effettuato un sopralluogo sul cantiere che coinvolge il piano semi-interrato della scuola che era dedicato e destinato alla scuola materna e ho potuto verificare di persona che vi era un'attività finalizzata a manutenere gli infissi interni e quindi le porte e prossimamente si intraprenderà l'intervento di tinteggiatura di tutta la zona che è stata interessata da importanti lavori di risanamento che sono consistiti nella realizzazione delle camere ad aria, nel rifacimento di tutte le facciate del Plesso che infatti se si passa per il via Fiore del Luca si possono tranquillamente ammirare che sono tenute in maniera perfetta e l'intervento prevedeva anche il rifacimento del manto di impermeabilizzazione del tetto. I lavori quindi, ribadisco, sono in abbiato stato di realizzazione e sono tranquillo nel dire che praticamente per quando ci sarà la riapertura della scuola il prossimo mese di settembre la scuola sarà pronta per essere fruita da parte di tutti i bambini del Marconi. Sono lavori che sono iniziati lo scorso anno nel mese di luglio e che praticamente stanno volgendo al termine. Il tondo di Marco Aurelio nel porto di Ischia si trova in uno stato di degrado, lo segnala Giovanni Tufano che rivolge un appello all'amministrazione comunale. Il tondo di Marco Aurelio, come altri importanti monumenti isolani, parla della nostra storia. È impensabile non averne cura e lasciarlo cadere in un simile stato di incuria. Vediamo. Il tondo di Marco Aurelio che si trova nel porto di Ischia è uno dei monumenti dell'isola di Ischia e Giovanni Tufano che è un cittadino ischitano molto attivo nel segnalare quelle che sono le problematiche del territorio ha proprio puntato l'indice contro quella che è la cattiva gestione di questi monumenti, l'incuria, tra cui il tondo di Marco Aurelio. Perché? In che condizioni si trova Giovanni? In questa foto è ben visibile lo stato in cui si trova e nella parte posteriore che non è visibile da qua, entrando dal porto, è completamente quasi distrutto. Insieme ai pilastri e insieme al pontile di Schiaponte sono tre monumenti che l'amministrazione dovrebbe curare un po' in più perché attirano turisti e quindi la nostra storia. Ora la nostra storia è importante perché sono le nostre origini, dobbiamo cercare di conservarle anche per chi viene dopo. Senti, secondo te Giovanni come mai si trova così distrutto? Che cosa può aver causato questo tipo di rottura? Diciamo un po' di tutto, anche una volta c'erano i battelli e quindi erano barche di legno con motori piccoli, adesso anche queste grosse navi che entrano e escono dal porto, qualcuno ci sarà pure urtata vicino. Ti ricordi l'ultima volta che hai visto fare manutenzione? Io non mi ricordo, io ho 54 anni quasi, sono nato in quel portoncino là e non ho mai visto fare manutenzione, è proprio trascurato completamente. Quindi rivolgi un appello all'amministrazione? Io chiedo ai nostri amministratori di tutelare il nostro patrimonio artistico e storico, è importante investire di più su questi monumenti che poi sono le nostre origini e quindi si tramandano da generazione in generazione, chi verrà dopo potrà leggere oltre sui libri di storia e vedere realmente che cosa ha letto. Oggi se noi distruggiamo queste opere rimarranno solo i segni sui libri e non si potrà avere la soddisfazione di vederli e di dire ah questo è un monumento che si è tramandato nel tempo e che i nostri amministratori, bravi amministratori, sono riusciti a conservare. Vivere a pochi metri da un'area rifiuti non è certamente salutare, per questo da anni i residenti nelle case della cooperativa Parvadomus di Lacquameno, conosciuta come 167, stanno combattendo una battaglia con l'amministrazione comunale. L'area ecologica, soprattutto in estate, produce miasmi che appestano l'aria e rendono la zona inabitabile. In più in piena notte il rumore è insopportabile. A farsi portavoce del malcontento dei residenti della 167 di Lacquameno, l'Avvocato Antonio Trani. Vediamoci il servizio. Il quartiere della 167 di Lacquameno, che potrebbe essere una zona residenziale di tutto rispetto anche per quella che è l'ubbligazione molto ridente, però presenta alcune problematiche. Ne parliamo con l'Avvocato Antonio Trani. Quali sono queste problematiche principalmente? Innanzitutto è quella notoria. Ci sono anche, penso, perlomeno un procedimento penale che vede coinvolti gli amministratori del Comune di Lacquameno è quella dell'isola ecologica. Isola ecologica che nasce, è stata, diciamo, impiantata a 29 metri dal muro della palazzina. Un'isola ecologica che è sempre gestita in modo, diciamo, a mio avviso non regolare. D'estate, soprattutto per la presenza dell'umido, dà luogo proprio a dei veri episodi che secondo me superano, certo, che superano certamente la semplice irregolarità perché l'aria diventa irrespirabile, i bambini hanno dei problemi, ho sentito che qualcuno in passato si è anche dovuto rivolgere al vicino ospedale. Si formano, nonostante, voglio dire, gli sforzi che qualcuno a volte ha fatto, dei cumuli di immondizia che fermentano al sole. La verità è che quest'isola ecologica non doveva nascere qua, per non parlare poi di notte perché molto spesso per la carenza di personale o per, diciamo, proprio orari che hanno loro di conferimento a Napoli il casino, diciamo, comincia alle due e mezza, alle tre di notte e lei comprenderà, a 29 metri c'è una trasmissione immediata dei rumori e quindi, insomma, non si dorme. Noi, insomma, abbiamo fatto il possibile, però abbiamo anche segnalato all'amministrazione che secondo me, secondo noi, diciamo, perché c'è anche un comitato della cooperativa Barbadomus, diciamo, dislocare solamente il servizio dell'umido, diciamo, pagando una specie di canone ad una ditta esterna, anche isolana, che possa raccoglierlo e conservare qui, fin quando non verrà proprio eliminato, perché secondo me la cosa migliore è eliminarla da un caseggiato, tra l'altro regolare, non abusivo. Costerebbe di meno che non mantenere un servizio per l'umido, per il comune, probabilmente per il comune di L'Acquamino. A Procida il progetto Garanzia Giovani vede la partenza. Il gruppo consigliare per Procida esprime la soddisfazione per l'avvio di un progetto, peraltro predisposto e finanziato dalla precedente amministrazione, che dà la possibilità a 13 giovani di avere un'esperienza lavorativa qualificante. Detto questo, continuano al gruppo per Procida, non possiamo non sottolineare per l'ennesima volta la gestione confusa dell'intero iter attuativo. Un bando che non ha mai visto un'evidenza pubblica, iscritti all'ultimo momento che, guarda caso, figurano tra i selezionati, decreti di rettifica con selezionati che entrano ed escono dalla graduatoria, ricorsi, denunce alle autorità giudiziarie. Tutto questo lascia tante altre ombre, tra i selezionati poi la larga maggioranza risultano essere figli o parenti di dipendenti e funzionari comunali, su un'iniziativa che comunque vede impegnate, non si comprende ancora per quale motivo, tre unità lavorative in meno rispetto a quelle che erano previste nel progetto iniziale regolarmente approvato. Non volendo pensare che ciò sia dovuto alla carenza di giovani alla ricerca di esperienze lavorative, dobbiamo quindi rilevare, dicono da per Procida, che il tutto è stato decisamente gestito, così come spesso accade con l'amministrazione Ambrosino, con dilettantismo e supponenza. La situazione stradale dell'isola presenta molti aspetti critici per un abbandono che dura da decenni, per cui grande l'impegno che oggi necessita per rendere le nostre strade sicure e riqualificate dal punto di vista ambientale e della valorizzazione delle zone storiche. Lo scrivono da Vivere Procida in un comunicato. Sottoporremo alla Commissione Paesaggio e poi al Sovrintendente un progetto nella speranza di dar vita quanto prima nel rispetto dei tempi tecnici necessari ad una opportuna riqualificazione. Intanto, vista la chiusura delle scuole, sono iniziati sull'isola di Procida i lavori della metanizzazione. Massimo Gomez, arbitro internazionale di pallanuoto ad Ischia per il torneo Beach Water Polo Stars, convocato per le Olimpiadi di Rio 2016. È un sogno che si avvera arrivare alle Olimpiadi e il massimo traguardo cui ogni sportivo, sia atleta che giudice, aspira. Sono felice. Ascoltiamo. Siamo con Massimo Gomez, arbitro internazionale di pallanuoto, arbitro che parteciperà alle prossime Olimpiadi di Rio 2016. Allora ti chiedo, Massimo, innanzitutto il tuo palmaresto parla da solo, ma ti aspettavi questa convocazione alle Olimpiadi? Guarda, essere sincero, è un sogno che si avvera dopo un bel po'. Ho lavorato tanto, ho lavorato sia sotto l'aspetto tecnico che psicologico perché arrivare alle Olimpiadi è il massimo traguardo a cui uno sportivo inteso non soltanto nel vero senso della parola, ma anche come giudice è la massima ambizione ed è il traguardo ultimo, ma non ultimo, in senso temporaneo al quale una persona possa aspirare. Me l'aspettavo, me l'aspettavo. Sai, fino a che non c'è nero su bianco, perché ho già subito sotto certi aspetti, forse un torto alle ultime Olimpiadi, ma il lavoro e la perseveranza questa volta mi ha premiato. Prima di andare alle Olimpiadi però sei venuto qui ad Ischia e non è la prima volta che arbitrerai il torneo Beachwater Polo Stars, ma non solo, anche quelli amatoriali. Allora dicci qualcosa sulla manifestazione che si svolgerà il prossimo week. Guarda, io credo che prima ancora di parlare della manifestazione bisogna innanzitutto ringraziare gli sponsor che fanno sì che questa manifestazione possa avere atto in questo scenario veramente meraviglioso dell'isola di Ischia. Io sono ospite dell'Aragona Palace Hotel di cui il direttore Isidoro Di Meglio, splendida persona, ci offre tutti i comfort e voglio ringraziare anche Domenico e Francesco che sono veramente il cuore, il braccio e la mente di questa manifestazione. Non è la prima volta, ci vengo volentieri. Ho fatto anche delle rinunce perché sto arrivando adesso da una collegiale con la nazionale e lunedì ripartirò ancora con la nazionale e nel mezzo ci ho messo questo splendido scenario, questa splendida iniziativa che l'isola di Ischia e tutti quelli che fanno parte di questo torneo fanno e contribuiscono per lo sviluppo della pallannuoto. Pallannuoto a mare, diciamolo pure, perché di solito si gioca in piscina. Pallannuoto che ricorda vecchi fasti e vecchi tempi ma che conserva il suo splendido cuore pulsante che è appunto di questo sport, l'acqua. A proposito di Ischia, come hai visto comunque la crescita di questo sport credo che negli ultimi anni anche questi tornei sono a mare, magari lontano dalla piscina però ho visto anche un interessamento delle persone. Guarda, non solo interessamento delle persone ma tu che sei stato con me in queste ultime edizioni hai visto un crescendo di agonismo e di livello tecnico che si innalza. Il torneo che ci sarà sabato appunto vedrà in acqua campioni già olimpici che con me chiaramente si arricchiranno forse di un altro olimpionico. Sabato 18 e domenica 19 giugno i go-kart ritornano sull'isola d'Ischia. L'associazione Ferrarischia del presidente Giuseppe Boccanfuso organizza l'evento E Tempo di Kart. Nella zona del palazzetto a fondo Bosso a Ischia sarà allestita una pista di 400 metri sulla quale sfrecceranno circa 15 piloti. Vediamo il servizio. L'ultimo evento dedicato ai go-kart risale al lontano 2004. Dopo esattamente 12 anni la mini Formula 1 ritorna sulla nostra isola con la bella manifestazione Tempo di Kart che si terrà nei giorni 18 e 19 giugno nell'area che circonda il Taglia la Tela e lo Stadio Mazzella. La gara è stata fortemente voluta dall'associazione Ferrarischia e dal presidente Giuseppe Boccanfuso che insieme al suo staff, dopo i numerosi eventi Ferrari che hanno più volte colorato di rosso l'isola ha voluto stimolare l'adrenalina degli appassionati di kart. Grazie alla collaborazione al patrocinio del Comune di Ischia sarà allestita una pista di 400 metri nell'area del palazzetto dove una quindicina di piloti sfrecceranno con le proprie monoposto alla ricerca della vittoria. I partecipanti saranno divisi in tre categorie e sono due le tipologie di kart ammesse la 100 e la 125 a marce. Il programma prevede nella giornata di sabato diverse sessioni di prove libere dalle 10 alle 19. Il giorno successivo, domenica 19 giugno ci sarà un'ulteriore sessione di prove libere a partire dalle 10 a seguire le qualifiche per poi dare il via alle gare alle ore 15. Inoltre nel programma è prevista anche un'esibizione di piccoli piloti circa 10 anni che con il loro piccolo kart 60 potranno girare liberamente sul percorso. Per chi fosse interessato è possibile iscriversi fino a domenica 12 giugno contattando la Ferrarischia al numero 349 150 48 70. La volontà del presidente Boccanfuso oltre a regalare a numerosi appassionati isolani il sogno di correre con il proprio kart in casa è anche quella di coinvolgere tante persone e bambini che potranno assistere in piena sicurezza alle prove libere, alle qualifiche e alla gara. Si tratta infatti di un evento più unico che raro. E quante volte i nostri giovani si sono chiesti perché a Dische non c'è una pista per go-kart? Ebbene pur trattandosi di una manifestazione temporanea ciò non toglie che in caso di successo possa essere ripetuta in più occasioni durante l'anno facendo crescere così la passione per questo sport soprattutto tra i più giovani ma non solo e tanto amano l'ebbrezza della velocità una velocità che deve essere sprigionata in pista e non sulle strade della nostra isola. Chiusa con le due partite di finale femminile e maschile la fase nazionale dei campionati studenteschi di pallavolo verso il Palatrento i nostri rappresentanti della campagna le allieve e gli allievi del liceo di Ischia hanno fatto di tutto per rimanere tra le prime squadre ma fatale è stata qualche azione sbagliata nel primo turno che ha concesso alle avversarie dei vantaggi nella particolare classifica avulsa cosicché le allieve del liceo di Ischia per la campagna sono risultate tredicesime con due vittorie e due sconfitte e per i maschi stessa sorte due vittorie e due sconfitte che sono valse il diciassettesimo posto. Al termine delle gare c'è stato il riconoscimento ritirato dal rappresentante di ogni squadra di regione e premi per diverse categorie i ragazzi e le ragazze del liceo di Ischia pur rammaricandosi di non aver conquistato un posticino superiore sono stati i protagonisti di una bella avventura e di una esperienza che tutti vorrebbero fare Tra gli appuntamenti domani sabato alle 16.30 presso l'Aula Magna del liceo statale si terrà un seminario di aggiornamento professionale per il personale della scuola insegnamento e apprendimento attività didattiche combinate del processo di orientamento tenuto dal professor Renato Di Nubila dell'Università di Padova e promosso dal centro di iniziativa democratica degli insegnanti dell'Isola d'Ischia il percorso stilato dal relatore di intesa con la dottoressa Lucia Esposito esperta locale sulle tematiche di orientamento scolastico sarà articolato in sei tappe e domani sera alle 19 presso Villa Arbusto all'Acquameno ci sarà il convegno La Donna nella Costituzione della Democrazia in Italia l'evento è organizzato dalla FIDAPA Isola d'Ischia in occasione del settantesimo anniversario della Repubblica e del voto alle donne e siamo in chiusura come sempre uno sguardo al meteo per quanto riguarda la giornata di sabato la pressione atmosferica tenderà ad aumentare quindi il tempo sarà stabile con cielo sereno poco nuvoloso salvo locali addensamenti durante il pomeriggio la temperatura si prevede in aumento con venti deboli di direzione variabile con rinforzi durante il pomeriggio ed il mare poco mosso grazie per averci seguito in questa edizione principale del telegiornale vi lascio con i nostri programmi e noi ci rivediamo come sempre per gli aggiornamenti all'edizione delle 14 arrivederci grazie a tutti grazie a tutti